Ebbene, allora tavola 8. Questa tavola la dividiamo in quattro parti uguali, come abbiamo fatto in precedenza, dalla tavola 6 anche nei precedenti, con quattro esercizi differenti. Allora in alto a sinistra il primo esercizio dice, data una circonferenza di raggio 3 cm e un punto esterno P, disegnare le tangenti alla circonferenza. Bene, allora iniziamo disegnando il dato, quindi una circonferenza con centro O di raggio 3 e un punto esterno P. A questo punto uniamo il punto P con il centro della circonferenza, quindi OP. Il passaggio successivo è quello di trovare il punto medio di questo segmento OP. Anche questo è una costruzione nota che abbiamo già fatto diverse volte, vi ricordo come si fa. Apriamo il compasso con un'apertura maggiore, insomma, della metà del segmento, puntiamo in P e facciamo due archi. Puntiamo in O e facciamo due archi in modo di trovare le intersezioni che sono il punto 1 e il punto 2. Unendo il punto 1 col punto 2 l'intersezione, questa qui sulla segmento OP, determina il punto M che è il punto medio. A questo punto che cosa facciamo? Apriamo il compasso con un'apertura MO, facciamo centro in M, apertura in O e troviamo, disegniamo questo arco e troviamo due punti A e B. Questi punti sono i punti di tangenza, quindi li uniamo con il punto P, sia A che B e abbiamo trovato così la tangente passante per P tangente alla circonferenza che sono ovviamente due le tangenti, quindi una sopra che passa per il punto A e una sotto che passa per il punto B. Vi ricordo che un segmento per essere tangente deve succedere che se io unisco O con A, O con A deve essere perfettamente perpendicolare a PA e quindi anche a PB. Quindi questa è la costruzione e il risultato finale. Il secondo esercizio che lo facciamo in alto a destra dice, dato una circonferenza di raggio 3 cm, quindi uguale alla precedente, e due punti A e B di questa circonferenza che mettete a piacere, disegnare le tangenti nei punti A e B e trovare il loro punto di incontro in V, cioè il contrario dell'esercizio precedente. Prima avevamo il punto esterno e dovevamo trovare i due punti. Adesso abbiamo i due punti e dobbiamo trovare il punto esterno. Ora si procede in questo modo, si unisce O con A prolungando questo segmento e si apre il compasso con un'apertura a piacere e si trovano i punti 1 e 2, quindi centrando in A, punto 1 e punto 2. Passaggio successivo, apriamo il compasso con un'apertura anche qui a piacere maggiore di 1 A, puntiamo in 1 e facciamo un primo arco, puntiamo in 2, facciamo un secondo arco e abbiamo trovato il punto 3. Facciamo la stessa cosa sotto, con la stessa identica apertura, quindi centriamo in 1 e facciamo il primo arco in 2 e il secondo arco in modo da trovare il punto 4. Uniamo il punto 3 con il punto 4 e questa che abbiamo trovato è la tangente. Adesso faremo la stessa costruzione sotto, eccola qua, uniamo i due punti e il punto d'incontro di queste due segmenti che abbiamo tracciato, queste due semirette che abbiamo tracciato, ci determina il punto V. Quindi dal punto V partiranno queste due semirette che saranno tangenti alla circonferenza nel punto A e nel punto B. Passiamo al terzo esercizio, dice dalle due semirette perpendicolari con origine nel punto V disegnare un raccordo di raggio 4 cm. Questo esercizio è abbastanza semplice, la prima cosa che facciamo è apriamo il compasso di 4, puntiamo in V e troviamo così il punto 1 e il punto 2. Con la stessa apertura facciamo centro in 2 con l'apertura di raggio 4 e disegniamo un arco. Facciamo centro in 1 e disegniamo un arco. Questo punto che abbiamo trovato, che lo chiameremo O, sarà il punto da cui partiranno le due tangenti, partirà l'arco tangente alle due semirette, per cui centriamo in O, O1, facciamo questo arco che arriva fino a 2. Quindi questa qui sarà, diciamo così, la figura finale, il raccordo di queste due rette. Eccolo qua. L'ultimo esercizio dice, date due rette convergenti X e Y, disegnare il raccordo di raggio 2,2. Qui la costruzione è leggermente più articolata, ma è semplice. Allora, la prima cosa che facciamo, individuiamo a piacere un punto A e apriamo con il compasso e disegniamo questi due archi che determinano il punto 1 e il punto 2, con un'apertura ovviamente a piacere. Dobbiamo trovare la perpendicolare ad A, per cui apriamo con un'apertura a piacere da 1, con la stessa apertura apriamo da 2 e troviamo il punto 3. Uniamo A con il punto 3. A questo punto che cosa facciamo? Apriamo il compasso con un raggio di 2,2, facciamo centro in A, eccolo qua, e troviamo quindi questo punto. Da questo punto sarà a distanza da 2,2 da questa retta. Questa stessa identica costruzione la faremo in un altro punto C, sempre sulla retta Y, in modo da determinare questo punto. La faremo poi dopo in un punto E sulla retta X e determiniamo questo punto, e ancora un altro punto sulla retta D. Per quale motivo? Perché in questo modo, unendo questi due punti, abbiamo trovato due parallele a X e Y a distanza di 2,2. Eccolo qua. E troviamo quindi questo punto di intersezione. Questo punto di intersezione sarà il centro del raccordo. Per cui, ecco, centrando sul punto 1, su questo punto, disegniamo il raccordo alla nostra retta. Eccolo qua, con 2,2 e questo è. La tavola finale sarà in questo modo. Occhio alle rette, diciamo così, alle mine F e mine 2 H. Quindi chiaramente il principio è molto semplice. Con la mina F noi facciamo il disegno finale, ok? Con le 2 H facciamo le costruzioni, rappresentiamo le costruzioni. Quindi il risultato finale sarà questa tavola che vedete qui.